Lunedì 9 settembre sono a Maranello per la presentazione mondiale di Universo Ferrari. La speciale esposizione è organizzata in occasione dei 90 anni del cavallino rampante. All'ingresso dell'esposizione ci sono l'SP1 Monza e l'SP2. A Universo Ferrari la casa di Maranello presenta anche la nuova 812 GTS Spyder e l'F8 Spyder. Inoltre sono esposte una serie di vetture come l'attuale gamma in vendita e la monoposto F310B di Michael Schumacher. Porta aperte per i tifosi appassionati nei weekend del 21 e 28 settembre. All'ingresso dell'esposizione Universo Ferrari è esposta la monoposto del campionato di Formula 1 2019 la Ferrari SF90. Questa è la monoposto che nel Gran Premio di Monza ha vinto con Leclerc. E sempre all'interno di Universo Ferrari è esposta la coppa che ha vinto Leclerc a Monza. Dentro l'Universo Ferrari è esposta la Ferrari SF90 stradale. La prima vettura ibrida prodotta dal cavallino capace di erogare più di 1000 cavalli. Sono all'interno della Ferrari SF90 stradale. Una caratteristica di questa automobile è la chiave elettronica che riprende lo stemma del cavallino. Questo è il cruscotto completamente elettronico. Qui si notano le lede del cambio. Il famoso manopolino per regolare le diverse modalità di guida.